Come ci dimenticavo a sentire qua? Mi sembra divertente? Non molto. Ma sai, non ho spiegato senso di ora. Mi piantala con le tue frasette intelligenti. Lo sai che mi rompisco l'ione quando fai la fuma con me? Non volevo castidirti che davvero io non ho capito lo scherzo. Non sarei divertente, guarda che in Italia io ho imparato un conto. Ma cosa hai pensato quando hai ricevuto le mie lettere, le buste? Era il tuo modo di ricordarmi che eri ancora vivo? Che non mi sarei mai liberata di te? Poi ho capito che stavi per uscire. Ma perché le buste senza niente dentro? Non lo so, dimmelo tu. Perché se ti avessi scritto qualcosa, qualunque cosa, avrebbero dovuto usarmi di minacce, di questioni psicologiche o qualcosa di genere. Questo non ha detto un altro che stava con me. E' uno che conosceva il codice penale a memoria e tutti i duchi della legge, il meglio degli avvocati. Allora... Grazie. Sì, hai imparato davvero molto. Grazie. Grazie. Grazie.